Buongiorno a tutti, sono Brenda Brignani e sto terminando il mio percorso di studi presso l'Università di Pavia. In particolare sono iscritta al corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza ed ho scelto un indirizzo forense, la cui offerta formativa consente l'accesso alle tradizionali professioni legali e dalla magistratura. L'Università di Pavia offre però anche la possibilità di scegliere altri indirizzi che consentono di approfondire specifici settori privilegiati dallo studente, quali diritto dell'economia e dell'impresa, diritto internazionale e comparato, pubblica amministrazione, storia e cultura giuridica. Una costante nel mio percorso di studi è stata l'interazione con docenti e con i loro collaboratori, sempre disponibili per approfondimenti e chiarimenti. Grazie a tutti.